Ciao a tutti, questo sarà un video test per provare a settare al meglio le impostazioni del nuovo microfono, ascoltando i video degli altri creators che possiedono un Blue Yeti come il mio, rilevo un audio praticamente sempre perfetto, quindi vorrei cercare di raggiungere quel livello, ma in realtà con il mio ha aperto un fischio nel sottofondo, quindi adesso proviamo ad impostarlo. In questa prima modalità che sentite sto registrando con un volume di 0,3 e il volume qui delle cuffie è al minimo e il gain è impostato a poco più di metà e la modalità scelta è la cardioid e l'audio che sentite è questo. Ovviamente io sono in questo momento vicino alla ventola del computer e quindi è molto probabile in realtà che avvertiate il rumore della ventola, ma probabilmente spostandomi un po' dovrebbe diminuire questo effetto. Allora, quindi dicevo questa è la prima prova, adesso vi faccio vedere anche che con questa modalità cardioide l'effetto binaural praticamente è assente, infatti parlo da sinistra e poi parlo da destra e poi parlo da sopra, ma credo che per voi sia praticamente lo stesso. Con le stesse impostazioni adesso scegliamo la modalità stereo. Ok? Oddio! La modalità stereo è questa qui. e vediamo un po' come si comporta parlando da destra e poi anche da sinistra. Riuscite ad appartire una qualche differenza nel canale di provenienza della voce. Adesso parlo normalmente e poi anche un po' sopra. Ok? Adesso mettiamo invece la modalità ok? Allora, in questo modo la voce dovrebbe avvertirsi un po' da tutte le parti, anche parlando sopra, sotto, da questa parte. Così, ditemi se sta cambiando qualcosa. probabilmente questo poi non è il video giusto per provare tutti gli effetti sonori. Però faccio qualche rumore. io temo solo che con questo effetto sonoro avvertiate ancora di più i rumori esterni, tipo la ventola del computer. però insomma ditemi voi. Ok. Adesso rimpostando la modalità cardioide proviamo a giocare un po' con il volume di registrazione. Vorrei provare innanzitutto ad abbassare un pochino il gain. Vediamo che cosa succede. quindi stesso volume di registrazione è 0.3 e abbassiamo un po' il gain. Ecco poi tra l'altro c'è anche dei fischi strani qui. quindi abbassiamo un pochino il gain. Anzi, abbassiamolo totalmente. Ok? Così è totalmente abbassato. Però a mio parere c'è qualcosa di strano. Credo che la voce sia ferda meno. E non so. Probabilmente sia ferda meno. non so. Probabilmente sia ferda meno. E non so. Probabilmente sia ferda meno. ma soprattutto nella stagione. Sia ferda meno. Oppure non. Faccio un po' di strano. Ok. 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 Adesso. Così è come prima, poco più di metà. e vogliamo provare ad abbassare ulteriormente il volume di registrazione per capire come si comporta. L'avevamo messo a 0.30, lo mettiamo a 0.06. Come vi sentite adesso? Come vi sentite adesso? Come sentite la ventola del computer? Secondo me così forse è un po' basso. Anche perché negli scorsi video avevo impostato un punto di volume di registrazione parecchio a basso. più o meno a 0.0306. Come adesso diciamo. E nonostante avessi poi la sproduzione alzata la traccia. Mi avete segnalato tutti che l'audio era poco interessibile. Quindi torniamo di nuovo ad un volume più alto. E mettiamo. 0.45 Ok. Quindi siamo a metà. E il gain è sempre a metà. E adesso invece vorrei provare ad abbassarlo. Ok. Così il gain è totalmente abbassato, però in modo di registrazione è un pochino più alto a metà. Non lo so. Che ne pensate? Sta cambiando qualcosa? Non lo so. Torniamo alla condizione precedente. Ok. Quindi il gain ha un poco più di metà. E volume di registrazione. Lo teniamo. Aspettate. Aiuto. Ok. Teniamo il volume di registrazione a 0.45 5. E... Cambiamo la modalità adesso. E mettiamo la modalità stereo. Faccio qualche rumorino. Faccio qualche rumorino. A destra. E a sinistra. E a sinistra. E un po' di tapping a destra. E un po' di tapping a destra. Che ne dite? Rimpostando la modalità cardioide. Invece questi rumori non credo sia aperta. Cioè nel senso credo sia aperta meno lo scambio dei canali. Quindi... Vediamo. Sono in modella cardioide. E... Faccio tapping. A destra. No anzi scusate a sinistra. E poi anche a destra. Io confondo molto spesso la destra con la sinistra. Che ne dite il suono? Sembra più piatto in questo modo. Fatemi sapere. In ultimo tornerai alla condizione di partenza. Quindi mettiamo un volume di registrazione a 0.3. Ed eccoci qui. Mamma mia. Che fatica. Fatemi sapere quale delle opzioni mi sembra migliore. Adesso io cercherò di editare un po' il suono. Quindi di pulire un pochino la traccia. Quindi ora riascolterete lo stesso video. Ma con la traccia un po' lavorata diciamo. E fatemi sapere tutte le opzioni che vi sembra di preferire. Ma ci non so parlare. Non so che cosa sia successo. Vabbè capitano questi giorni un po' così. E tra l'altro sto guardando sempre di là. E invece dovrei guardare di là. Vabbè. Vi mando un abbraccio forte. E ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando. Commentate sotto. A presto. Ciao a tutti. Questo sarà un video test. Per provare a settare al meglio le impostazioni del nuovo microfono. Ascoltando i video degli altri creators che possiedono un Blue Yeti come il mio. Rilevo un audio praticamente sempre perfetto. Quindi vorrei cercare di raggiungere quel livello. Ma in realtà con il mio ho aperto un fischio nel sottofondo. Quindi adesso proviamo ad impostarlo. In questa prima modalità che sentite sto registrando con un volume di 0,3. E il volume qui delle cuffie è al minimo. E il gain è impostato a poco più di metà. E la modalità scelta è la cardioid. E l'audio che sentite è questo. Ovviamente io sono in questo momento vicino alla ventola del computer. E quindi è molto probabile in realtà che avvertiate il rumore della ventola. Ma probabilmente spostandomi un po' dovrebbe diminuire questo effetto. Allora, quindi dicevo questa è la prima prova. Adesso vi faccio vedere anche che con questa modalità cardioide l'effetto binaural praticamente è assente. Infatti parlo da sinistra e poi parlo da destra e poi parlo da sopra. Ma credo che per voi sia praticamente lo stesso. Con le stesse impostazioni adesso scegliamo la modalità stereo. La modalità stereo è questa qui. E vediamo un po' come si comporta. parlando da destra e poi anche da sinistra. Riuscite ad avvertire una qualche differenza nel canale di provenienza della voce. Adesso parlo normalmente e poi anche un po' sopra. Ok. Adesso mettiamo invece la modalità che dovrebbe essere tipo Dolby Surround o Dolby Surrounded come si dice. Non lo so. Comunque mettiamo. Ok. Allora, in questo modo la voce dovrebbe avvertirsi un po' da tutte le parti. Anche parlando sopra, sotto, da questa parte. Così ditemi se sta cambiando qualcosa. Probabilmente questo poi non è il video giusto per provare tutti gli effetti sonori. però faccio qualche rumore. Io temo solo che con questo effetto sonoro avvertiate ancora più i rumori esterni, tipo la ventola del computer. Però insomma ditemi voi. Ok. Adesso rimpostando la modalità cardioide proviamo a giocare un po' con il volume di registrazione. Allora, vorrei provare innanzitutto ad abbassare un pochino il gain. Vediamo che cosa succede. Quindi stesso volume di registrazione 0.3 e abbassiamo un po' il gain. Ecco vai, tra l'altro c'è anche dei fischi strani qui. Abbassiamo un po' il gain. Il gain è un po' il gain. Allora, tutto il gain è un po' il gain. E poi questo è il gain. Ok, così è un po' il gain. È un po' il gain, ma possiamo creare un po' il gain. così è come prima, un poco più di metà e vogliamo provare ad abbassare ulteriormente il volume di registrazione per capire come si comporta l'avevamo messo a 0.30 lo mettiamo a 0.06 come vi sentite adesso? come sentite la ventola del computer? secondo me così forse è un po' basso anche perché negli scorsi video avevo impostato un punto di volume di registrazione parecchio a basso più o meno a 0.306 come è adesso diciamo e nonostante avessi poi l'ospedizione alzato la traccia mi avete segnalato tutti che l'audio era poco attenzibile quindi torniamo di nuovo ad un po' più alto e mettiamo 0.45 ok quindi siamo a metà e il gain è sempre a metà e adesso invece vorrei provare ad abbassarlo un po' più alto e ok quindi gain a poco più di metà e volume di registrazione lo teniamo aspettate aiuto ok teniamo il volume di registrazione a 0,45 e cambiamo la modalità adesso mettiamo la modalità stereo faccio qualche rumorino a destra e a sinistra adesso faccio un body tapping a sinistra e un po' di tapping a destra che ne dite? rimpostando la modalità cardioide invece questi rumori non credo sia aperta cioè nel senso credo sia aperta meno lo scambio dei canali vediamo sono in modella cardioide e faccio tapping a destra no anzi scusate a sinistra e poi anche a destra io confondo molto spesso la destra con la sinistra che ne dite il suono? sembra più piatto in questo modo fatemi sapere fatemi sapere in ultimo tornerei alla condizione di partenza quindi mettiamo una volume di registrazione a 0,3 ed eccoci qui mamma mia che fatica fatemi sapere quale se le opzioni sembra migliore adesso io cercherò di editare un po' il suo amore quindi di pulire più la traccia quindi ora riascoltete lo stesso video ma con la traccia un po' lavorata diciamo e fatemi sapere tutte le opzioni che vi sembrano bene di licenza parli che cosa sia successo ma per capire questi giorni un po' così e tra l'altro sto guardando sempre di là invece dovrei guardare di là papà vi mando un abbraccio forte e ci vediamo al prossimo video vi raccomando commentate sotto a presto